Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e ragazzi e bentorni in questo nuovo video oggi siamo qua su StumbleGuys come vedete guardate le mie belle skin comunque mi sono scioppato non so se lo sapevate eeeh dov'è che è boh comunque lo scheletro quello che avevano messo a 700 gemme mi sembra ok e poi questo qui era gratis bellissimo ok oggi sciopperemo allora sciopperemo vedete questa bella offerta qua da 24,99 meno 51% è una bella offerta infatti ce la scioppiamo adesso però dovete lasciare un sacco di like va bene ora procedo e la scioppa pagamento riuscito ok ce l'abbiamo fatta vedete che salgono gli StumbleCoins c'è una speciale assicurata quindi dai ci facciamo siamo con tre spin così vabbè ragazzi dovete lasciare un bel like cioè ho scioppato ok un dinosauro un po' vabbè c'è tanto li trovo tutti e doppie dai leggendario anche se già ce l'avevo vabbè tutti e doppioni dai su ho scioppato 25 euro non è poco oh una bella leggendaria dai vabbè allora ci facciamo 10 spin e poi una partita perché ragazzi dovete lasciare un bel po' di like dai no la banana la volevo dovete lasciare tanti like perché ho scioppato diveruto vabbè dai comunque per chi magari non ci credeva che scioppavo però anche se non siamo arrivati i like che chiedevo dai qualche leggendaria me la dai tutte e doppioni leggendaria anche se già ce l'avevo ok tutte e doppioni bene dai speciale leggendaria questa ce l'ho ce l'ho vabbè bene stiamo andando male allora questa ce l'ho sì vabbè dai no sto orso qua ce l'ho dai qualcosa di bello qualcosa di bello dai leggendaria quella no quella lì ce l'ho ma c'ho tutto praticamente dai dammi una speciale ce l'ho garantita no nemmeno la leggendaria mi hai dato ma porca miseria no ce l'ho tutte praticamente ok finito allora c'è una bella partita e poi ci scioppiamo altri 5 giri vediamo cosa ci capita ok però dovete lasciare come vi ho già detto almeno no non ve l'ho detto però almeno 15 like li dovete lasciare se no non so poco più perché c'è 25 euro non è poco 24,99 per proprio precisione bene allora tutti con la skin che hanno cioè con la cosa che hanno cioè beh la skin che hanno messo che hanno messo gratis tutti praticamente ok tiriamo un bel calcio ok dai bene se non hanno abbastanza bene vai ok qua tricchettino no sono caduto perché di solito ragazzi mi esce questo trick eh ma dai Istanbul Guys è tutto buggato scusate per il messaggio dai no vedete è tutto buggato no dai non possono e vabbè faccio non posso no vabbè scioppiamo 5 spin no anzi 3 dai vediamo cosa troviamo e poi ci facciamo l'ultima partita e poi vi saluto perché perché non può durare troppo il video comunque se volete altri video del genere lasciate tanti like dai la leggendaria ok è anche doppione però vabbè ce le ho tutte ragazzi non mi manca niente speciale così mi dava 700 stumble coins anche se già ce l'avevo no quindi preferivo di no sciopriamo altri 3 poi basta facciamo una partita e dopo magari ne sciopriamo altri allora epica black knight questo che io non c'avevo era uno tra quelli che mi mancavano me ne mancano 3 di epiche dai dammi una leggendaria una leggendaria che non c'ho però è tutti doppioni tranne vabbè un'epica che mi serviva è anche doppione dai l'ultimo però mi devi dare qualcosa se no dai la speciale leggendaria no panda panda ok ce l'ho tanto bene scioppiamo altri 2 e poi però andiamo in partita ok dai devi dare la leggendaria ok meno male almeno la leggendaria me l'hai dato anche se tutte le cose me le dà doppioni no questo ce l'ho scioppiamo l'ultimo poi basta cioè se no sciopro troppo dopo magari dai dammi la speciale era garantita speciale no leggendaria no nemmeno ok vabbè no dai l'ultimo ce lo facciamo così però poi basta perché mi viene come vizio quindi no speciale ti prego leggendaria no no dai allora l'ultima l'ultima l'ultimo gli ultimi due diciamo tre però poi basta seriamente se no sciopro il continuo leggendaria ti prego dai una che non ho porca miseria dammela dammi una bella leggendaria che non c'ho no no non voglio santa claus doppione tutti doppie speciali no quella ce l'ho è inutile che non voglio stasicendo stumble coins dai facciamocene altri cinque poi basta poi ve lo giuro basta leggendaria è il robottino tanto ce l'ho c'ho tutto cosa sciopro a fare vabbè leggendaria ok doppione c'ho tutto praticamente no dai volevo dai dammi una bella leggendaria che non c'ho per favore scioppato dai questo mi sembra che è il terzo e la speciale dov'è scusa vabbè no in realtà era il quinto scioppiamo gli ultimi due poi basta veramente no se no sciopro troppo dopo magari ancora leggendaria ma perché ma perché una che non avevo non me la dai epica si vabbè tutti doppio vedete ragazzi di epiche me ne mancano ora vi faccio vedere di epiche me ne mancano solo queste due bella anche questa è il maialone qui va bene ci facciamo una bella partitina comunque andate a vedere il video che penso di aver caricato noob versus pro versus hacker stumble guys penso così al titolo però comunque davvero carino come video ci ho voluto un po' di tempo per far capitare sempre la stessa mappa perché è nella stessa mappa vabbè ma dai ok con i tricchettini pugni calcio eh no però vai accetto dai su su ok no ma porca miseria ok calcio vabbè qualificati a quanto pare stumble guys si è buggato mi ha fatto uscire vabbè allora ci facciamo 10 spin poi basta ok però dovete lasciare un bel like leggendario perché non mi dai la leggendaria ti prego tutte doppioni per ora però ne vabbè una un'epica dai ti prego dammi una leggendaria una bella speciale no è garantita me la devi dare dai ho scioppato di brutto leggendario perché non me la dai già la terza volta che mi fai confidare sta roba qua speciale cosa ma ragazzi quella che mi mancava leggendario dai ma perché vabbè almeno la leggendaria c'è che leggendaria è la speciale che più è la mia preferita quindi meno male che l'ho trovata speciale se me la dava almeno se me la dava lì impazzivo vabbè allora la leggendaria ok grazie però ho tanto doppione una leggendaria però che non ho doppione me la puoi dare per favore ti chiedo per favore vabbè la speciale vabbè allora ragazzi andiamo a utilizzare anche la speciale mi manca solo una speciale ora mi che bello il capitan gold ok e ci facciamo una bella partitina poi ci occupiamo l'ultimo gli ultimi tre giri o due o uno o al massimo dieci vabbè il massimo che si può fare nella ruota e poi ci salutiamo scusate ho fischiato vabbè allora pivot push dai concentriamoci con la nuova skin speciale capitan gold ragazzi ovviamente non shoppate quanto shoppo io perché potete venire i crediti vabbè allora e mi bella come skin tutto dorato un bel calcetto ok un altro calcio no ti prego no 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 ti prego no ti prego no ragazzi dovete lasciare un bel like vi prego ho shoppato ho trovato una speciale e abbiamo perso ragazzi ovviamente ho perso perché oggi non sto tanto in forma però vabbè allora ci shoppiamo dieci giri però anche se abbiamo perso vediamo se ci capita una leggendaria io adesso non voglio la speciale perché cioè ci manca solo quella verde però tanto che lo so che non me la fai trovare però almeno una leggendaria nuova me la devi far trovare speciale mi inserano la speciale in passivo due speciali in un video seriamente cioè davvero no dai perché non mi da una leggendaria dai allora silenzio 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 che se la fa trovare ragazzi allora dai dai perché non me la fa trovare vabbè l'ho già trovata però la leggendaria adesso mi serve almeno una o tutte i doppioni questa qui ce l'ho mi serve la femmina di qua così finisco ne manca cioè vabbè ne manca un po' che dire due vabbè una leggendaria però me la devi dare cioè speciali se me la dava quale doppione però dammi una leggendaria ti prego questa perché non me la dai perché non è doppione tutte doppioni ce ne scioppiamo quattro poi basta perché se no finisco le assemble coins leggendaria oh grazie almeno anche qua me la dai una nuova leggendaria almeno speciale no per pochissimo ragazzi se volete che faccia un altro video dove shoppo tanti like come vi ho già detto e noi ci vediamo in un prossimo video però non mi ha dato chissà quanto però la speciale si va bene ciao ciao